buonasera a tutti bentornati sugli schermi di casa del sole tv grazie per seguirci e siamo qui oggi a parlare un po di attualità di propaganda e anche di revisionismo storico e lo facciamo con l'amica documentarista scrittrice e psicologa Sara Reginella buonasera Sara buonasera a voi Sara faccio una breve premessa non esiste lo storico di destra e di sinistra ma lo storico onesto e disonesto e se analizziamo il percorso storico che abbiamo alle spalle notiamo che dopo la caduta dell'unione sovietica la rinascita del nazismo in polonia in ucraina nei paesi baltici è andato in crescendo di pari passo alla censura occidentale e adesso ci troviamo in una fase storica in cui tutti i valori occidentali e con loro la democrazia sono stati rimpiazzati dalla russofobia e da un totalitarismo tecnocratico mascherato che pasolini aveva previsto in tempi non sospetti e siamo passati dall'occidentalizzazione dell'ucraina all'ucrainizazione dell'occidente però l'antinazismo persino durante la guerra fredda è stato un valore condiviso anche fra occidente e russia fino alla caduta dell'unione sovietica perché immediatamente dopo appunto questi paesi hanno dato spazio a un nazionalismo russofobo tempestato di svastiche che la stampa occidentale ha nascosto all'opinione pubblica e da qui siamo arrivati al canada di trudeau che premia un cittadino nazista immigrato e tu hai scritto un libro e girato dei documentari sulla guerra nel donbass ma sei anche psicologa psicologa e per questo vorrei una tua opinione sui danni procurati a chi è nato all'interno di questa gabbia tecnocratica cioè i ragazzi nati intorno al 2000 che non hanno una memoria storica nel dna e ti vorrei chiedere di cosa sono stati privati i nostri ragazzi e che tipo di società occidentale si prospetta sia guidare nel futuro saranno young leaders world economic forum oppure semplicemente dei giovani privati della cultura e delle radici e poi aggiungo poi ci torniamo dopo durante la discussione in seconda battuta come sta reagendo l'informazione libera della rete Sara viene promosso il dialogo e il confronto o ci sono anche lì sorta di pensiero unico alla rovescia sempre delle domande molto approfondite allora intanto a proposito di pensiero unico mi scuso se oggi c'è la maglietta la zelien ski che è successo questa cosa che quest'anno c'erano magliette militari in tutti i negozi proprio perché zelien ski no da influencer che ha lanciato questa moda e io non ci avevo pensato ho comprato questa maglietta poi quando me la sono vista addosso ho detto che sembra zelien ski perché la moda la moda era quella quindi scusate sono cascato anch'io se no ne ho un paio anch'io che ogni tanto mi metto in casa quindi chiedo chiedo scusa per l'outfit ma non ho fatto in tempo a modificarlo per per questo per questa trasmissione allora dunque sicuramente quindi una domanda su due livelli noi danni alle nuove generazioni e quelli che sono insomma i disagi che si stanno creando no anche all'interno del cosiddetto pensiero unico nell'informazione e a volte anche forse nella nella contro informazione no e beh diciamo che la riflessione che noi dobbiamo fare è innanzitutto a partire da quest'idea del revisionismo storico che c'è un problema di fonti in che maniera viene esercitato il controllo e in che maniera si crea questa si alimenta la dittatura democratica partendo dal controllo delle fonti anni fa no gli insegnanti dicevano fate le ricerche utilizzando wikipedia no che questi ragazzini facevano copia in colla e poi professore segnale rosso no ma le ricerche le fanno su wikipedia ormai neanche nessuno si rivela più e wikipedia sappiamo perfettamente tutti che è un mezzo controllato di questa cosa non sono consapevoli molti no l'altro giorno parlavo con dei conoscenti diciamo ma l'occidente 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 un cavolo no nel senso che eh chi la pensa come la maggioranza non sente alcun disagio come chi esattamente come chi viveva durante il fascismo non sentiva disagio diciamo ma in fondo si stava anche bene certo se la pensavi come lui se non la pensavi come lui ti arrestavano oppure eh facevi comunque una eh una bruttissima eh fine eh chi ascolta questa mh questo programma non fa parte ovviamente eh della maggioranza ma eh fa parte di una minoranza pensante una minoranza critica ci tengo a sottolinearlo quindi non una minoranza eh che fa opposizione eh seguendo gli istinti ehm più bassi quelli del della della lotta e della distruzione fino a se stessa ma eh una minoranza critica eh che ha un pensiero col quale eh vuole motivare e è a questo sviluppo di questo senso critico che si è sempre cercato eh si si sarebbe dovuto sempre cercare di formare eh le nuove generazioni ma queste nuove generazioni ripeto eh che in che maniera possono sviluppare eh il senso critico se non possono più eh fare confronti no? Eh manca completamente la possibilità di confronto un confronto tra le fonti perché le fonti sono chiaramente controllate ma anche un confronto nello scambio intergenerazionale perché quello a cui eh stiamo assistendo mh adesso è che non c'è più lo scontro generazionale di questa cosa ho parlato anche eh in altri contesti cioè c'è un livello un livellamento ehm spesso anche in termini di mediocrità di banalizzazione delle cose c'è un un livellamento tra le due generazioni la generazione dei padre delle madri e la generazione dei figli mentre un tempo invece c'era un livello di contestazione eh da che cosa lo vediamo? Da cose molto banali da cose apparentemente stupide, prive di valore eh la musica i giovani sentono la stessa musica che sentono i genitori che per carità una volta poteva capitare in via eccezionale però cioè era difficile che eh figlio metallaro e padre metallaro o o o no eh figlia dark e madre dark genitori punk e figli punk. Era difficile che alla mia generazione piacessero i cantanti di di Sanremo o di canzonissima. Beh insomma sì c'era 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 un po' uno sconto eh eh tra tra le generazioni ma eh eh ed era ed era una cosa bella perché questo manteneva un processo dialettico vivo attivo un fermento no tra le due parti che creava un'evoluzione eh eh dei sistemi no eh ma lo vediamo anche ad esempio da dal vestiario eh cioè se noi andiamo eh in banissimo centro commerciale dove quindi i prezzi sono in quei negozi delle grandi catene più abbordabili per per tante persone eh noi troviamo il reparto ehm io io guardo più le le cose femminili ovviamente però insomma ehm vediamo i eh il vestiario eh dell'adulta che è molto simile al vestiario della giovane cioè non c'è una grossa differenza io l'altro giorno giravo c'erano delle delle ragazzine ce l'hanno avuto quattordici anni in liste per strada ma erano delle quarantenni sembrava che andavano lavorare in banca cioè erano vestiti e dice ma no come sei vestita no eh dici troppo non c'è proprio non vedi non vedi differenza ecco e e questa è un'altra cosa di cui noi eh dobbiamo prendere atto quindi questo scontro che ehm era buono sta venendo eh sta venendo sempre meno anche perché poi spesso eh i genitori no eh ultimamente un po' abdicano al loro ruolo cioè dico vabbè ho capito che se gli faccio fa quello che gli pare eh alla fine non si litiga eh e quindi vai fai quello che ti pare se c'hai tredici anni e fai le quattro di mattina va bene eh salvo poi il fatto che eh poi il giovane si ribella perché eh sotto sotto capisce che se tu a tredici anni eh mi lasci in giro in discoteca tutte quelle ore forse non te frega troppo di me ecco quindi il dubbio poi a un adolescente a un preadolescente gli viene e e inizia a stare male e inizia a fare ehm dei sintomi eh ma eh sono delle ribellioni che vengono mh fatte in maniera molto individuale che cos'è che è cambiato? Prima c'era una ribellione che avveniva in maniera collettiva cioè c'erano dei gruppi anche delle controculture che 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 veramente creavano fermento musicale, culturale, artistico e facevano delle loro rivoluzioni che facevano dal collettivo all'individuale. Adesso la ribellione che fa un giovane è una cosa di una disperazione unica ma ma non lo dico come critica lo dico con pietas eh perché fondamentalmente non non si unisce eh non si unisce a nessuno cioè la come la fa la ribellione magari la ribellione che sta rinchiuso nella sua cameretta completamente isolato rinunciando alla speranza che ci possano essere delle relazioni fuoriere di gioia, da pagamento, di felicità eh la ribellione della persona che fa abuso di sostanze eh la ribellione della persona che smette di mangiare o o che mangia troppo eh la ribellione della persona che non riesce più ad andare a scuola eh che sono delle ribellioni che comunque o o di chi si fa male che quindi fa la scelta espressioni di disperazione. Sono espressioni esattamente di disperazione che vengono vissute in maniera totalmente individuale mentre invece una volta che cosa succedeva? Che la disperazione c'era uguale perché la disperazione in adolescenza la senti nella maniera più forte e feroce che ci sia eh però ti univi c'era una collettività una collettività una collettività eh del gruppo dei pari di persone della tua generazione che non si rassegnavano e che volevano eh cambiare che volevano evolvere ma non perché quei giovani fossero migliori di quelli di oggi non è assolutamente così è che a loro venivano dati veniva data la possibilità di eh avere degli strumenti da utilizzare cioè uno di questi era lo strumento dialettico che oggi sta sparendo perché ripeto è tutto livellato a partire dalla massa di informazioni quindi che cosa succede? Che le persone non sono libere ma pensano di essere libere eh e questo è il dramma più atroce che ci sia eh io rimasi scioccata l'anno scorso da un'immagine quando andai in in Donbass eh una scena che vedi non in Donbass ma all'aeroporto di Baku in Azerbaijan eh perché eh per aggirare le stanzioni devi fare eh giro del mondo per arrivare eh a Mosca quindi da due passi dalla Serbia dalla Finlandia dalla Turchia e da Azerbaijan costava meno di tutti e io sono passata per Azerbaijan sono andata all'aeroporto di Baku che è un aeroporto bellissimo dove c'erano delle capsule eh a forma d'uovo dove tu ti mettevi dentro eh chiudevi la notte dormivi lì senza necessità di andare in albergo una cosa fighissima quindi io dormo lì la notte la mattina apro la mia capsula come uscita dalle uova di Cucun esco fuori e vedo degli alberi finti eh c'erano già questi alberelli di plastica un po' decorativi con degli uccellini che volavano e all'inizio pensai cioè sentito il suono pensai che fosse una cosa che dava tipo la sveglia no eh evocativa del suono degli uccellini e invece erano degli uccellini veri che erano probabilmente entrati da qualche pertugio all'interno del del grande aeroporto ed erano rimasti incastrati ehm in quell'area che è gigantesca e a me questa cosa mi ha angosciato tantissimo e mi so chiesta ma questi magari alcuni di questi sono nati qui no perché non riescono più uscire immagino che eh catturarli sia anche un po' complesso no? mh cioè penseranno che sia questo il mondo pensano cioè loro qui pensano che l'albero di plastica sia sia vero? Eh cioè loro non sanno che cosa significa stare in un albero vero no? eh eppure stanno qui beccando le cose che avvantano no? dai bar dai nostri panini dalle nostre cose pensano che quella sia la realtà io penso che questo accada eh in molte situazioni eh di giovani ma soprattutto anche di adulti che si sono mh dimenticati eh di che cosa fosse la vita prima eh dell'arrivo di internet perché internet è arrivato ha portato una rivoluzione grandissima eh per le nostre vite ha creato questo grande potenziale e nel momento in cui eh si è osservato questo eh grande potenziale che eh ci dava perché ci dava la possibilità di fare network di fare rete è stato cottato eh e adesso noi veniamo controllati attraverso i mezzi televisivi e attraverso internet quindi i giovani eh vivono in situazioni dove pensano che tutto questo eh sia normale e eh questa cosa per me è è terribile aberrante perché io io proprio incarno questo dolore perché sono stata dentro la guerra tante volte e ho visto il modo in cui vengono occultate e censurate le informazioni per portare avanti una linea anziché un'altra e e e questo è devastante però ripeto io che non ce l'ho mai quei giovani lungi da me perché io eh sto sempre eh dalla loro parte voglio dire che molti ragazzi molte ragazze lo sentono che c'è qualcosa che non va ma è così come se non riuscissero a dargli un nome no perché poi la cosa che a me mi aveva molto colpito che ehm dopo il ventiquattro febbraio del duemila e ventidue quando all'improvviso è comparsa sui grandi schermi la guerra io ricevetti tantissime telefonate in quel periodo eh da eh eh giovani rappresentanti di istituto di varie scuole di varie licei ma anche di professori che mi dicevano vieni subito a scuola facciamo un'assemblea ci spieghi cos'è successo perché noi non ci capiamo niente a me mi chiamavano dei ragazzi ci stiamo a capire niente non è che potrebbe venire lei perché cioè sentiamo che lei ci potrebbe dare una visione interessante che cos'è successo che poi io all'epoca lavoravo come psicologa dentro le scuole e quindi non ho mai voluto mischiare mischiare i due campi e quindi non ci andavo e io dicevo no eh non posso sentite me o lei ma no 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 meglio di no perché insomma io a scuola mi vedo non ho come o hai un'immagine o l'altro non lo so mi sentivo mi sentivo mi metteva molto a disagio questa cosa e quindi ascoltando mi ho detto no meglio che non la faccio ho accettato soltanto una volta eh in un liceo a Bari dove c'era anche il professor Canfora e lì c'erano veramente tanti tanti docenti anche universitari avevano chiamato anche me e ognuno portava una una posizione diversa un punto di vista diverso in modo tale che eh gli studenti potessero sentire più versioni della stessa cosa anche versioni che per me erano abberranti ma era giusto che a loro fosse data questa questa possibilità e quindi in quel caso era un terreno veramente molto variepinto e eh accettai di andare perché sennò io per il resto ho sempre evitato eh queste situazioni però a me faceva molto piacere gratificava il fatto che ci fossero dei docenti eh di licei di istituti professionali dei dei ragazzi e delle ragazze che eh dicessero eh noi sentiamo intuitivamente che non ce la stanno raccontando giusta ma non non riusciamo a capire dove dobbiamo trovare eh le fonti eh ed è così e noi e quindi noi ritorniamo a quell'estate del 2014 in cui qualcosa dentro di me si è spezzato ha fatto veramente crack e io eh cioè ci sono delle fasi della vita in cui accadono degli eventi e tu cambi e non non torni più la persona di prima cioè c'è uno scatto e per me lo scatto nella mia vita è stato lo scoppio della guerra del Donbassio questa cosa eh la la dico la dico sempre perché eh per carità sono sempre stata una persona molto attenta per farli è come cioè è stato un punto di non ritorno perché ho detto no vabbè ma non la possono nascondere così una guerra cioè cosa fai a nascondere la guerra sotto il tappeto? Sì si può nascondere la guerra sotto il tappeto e io metto tutti in guardia dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale perché ora la guerra è stata nascosta ma ci saranno degli episodi che non saranno più nascosti saranno creati quell'intelligenza artificiale stiamo andando verso quella direzione è assolutamente innegabile eh diventa difficilissimo capire che cos'è la realtà io per capire che cos'era la realtà io sono dovuta andare lì fisicamente perché l'esperienza che io avevo a livello psichico era un'esperienza al limite della psicosi ma non perché fossi malata io perché era malato in un mondo esterno a me e io da persona sa cioè in questa società le persone sane si chiedono a volte si chiedono se si è matti perché perché siamo in quella situazione io stavo perdendo gli esami di realtà perché io credevo che una realtà fosse quella che la realtà fosse quella però tutto il resto mi diceva che la realtà era un'altra e quindi quando tu perdi la percezione del reale entri in un meccanismo volento lente psicotico questo meccanismo psicotico in cui ti portano a vivere soltanto che per te la normalità e quindi non te ne rendi conto e pensi che sia tutto bello che cosa succede che a volte ci sono delle persone che se ne rendono conto e che si incazzano talmente tanto che smettono di ragionare e questo è un altro problema grosso e diventano fanatiche diventano fanatiche e anche a volte violente poi io ero meglio che stare a dormire insomma perché per quello è un po' pericoloso allora io dico noi ce ne rendiamo conto però dobbiamo essere lucidi perché allora come funziona propaganda io questo sempre detto no in questi anni come fanno a farci credere in una realtà in cercano di innescare dentro di noi delle emozioni di odio e di paura perché se segui l'odio e se segui la paura non ragioni più anni fa ci dice facevano la paura degli immigrati dell'est mi ricordo c'era un periodo no poi si va a ondate adesso la paura è legata alla russofobia però occhio perché questi sentimenti di odio e paura possono scattare anche dentro di noi che stiamo nella minoranza che cerca di informarsi e formarsi che se ci lasciamo anche noi guidare dai sentimenti di odio e paura siamo uguali a quelli la non cambia niente facciamo casino tutti insieme quindi io veramente lo dico perché no veramente sono so che il pubblico di casa del sole tv è un pubblico molto attento il pubblico che seguiva chiesa quindi insomma cioè è veramente quando noi sentiamo che ci stiamo perdendo che stiamo entrando in una posizione in cui non vediamo più le sfumature cioè fermiamoci facciamo un passo indietro perché quello che fa la differenza è la capacità di leggere il tutto attraverso un sistema complesso e che colga le sfumature perché il mondo che stiamo creando per questa generazione è un mondo che funziona con dei processi paranoici quindi divido in bianco e nero faccio una scissione il problema ce l'hai sempre te ecco e quindi no a volte il problema ce l'abbiamo anche noi io lo dico cioè anch'io se mi lascio prendere da emozioni di rabbia di odio di paura il problema anch'io divento parte di questo problema ed essere vittime di queste emozioni va fa porta una delegittimazione delle posizioni che poi si portano avanti perché non si legge più la complessità delle cose e si butta via tutto e questo significa che sì cioè si rischia allo stesso modo di fare una propaganda no nell'altro senso e quindi bisogna no mantenere sempre questo senso critico leggendo leggendo tutte eh tutte le fonti e eh divenendo proprio consapevoli ehm di quelli che 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 so che possono essere danni che creiamo anche noi perché poi alla fine visto che il tema riguarda anche le nostre le nuove generazioni le nuove generazioni hanno bisogno di modelli di soggetti adulti capaci di pensare ed esercitare lo spirito critico no de gente forcaiola che c'è da entrambe le parti cioè noi comunque siamo dei modelli eh per i giovani funziona così cioè anche loro quando dicono che gli facciamo schifo no in realtà ci osservano e ci studiano e sono eh hanno la eh disperata mh disperato bisogno di trovare dei eh modelli e se non li trovano si pigliano i modelli negativi perché loro sono come delle spugne sono in una fase in cui assorbono tutto noi assorbiamo molto meno oggettivamente e il rischio che poi trovino dei cattivi maestri ehm è altissimo eh quindi io dico sempre che i giovani bisogna ascoltarli perché spesso hanno hanno molte intuizioni ehm hanno hanno una ricchezza hanno una profondità eh e un'energia eh che che deve essere soltanto soltanto liberata però noi abbiamo la responsabilità di eh comportarci come dei modelli cioè noi non ce lo possiamo permettere di fare eh di fare come ci pare no? ehm dobbiamo capire che ci sono delle persone più giovani che ci guardano inutile stargli a dire tante cose non dobbiamo dire niente dobbiamo semplicemente eh agire secondo dei principi etici secondo dei sensi dei dei principi dei valori legati eh alla giustizia all'altruismo alla solidarietà ormai per sentire dire queste parole non si sa più dove si deve andare perché eh non le usa più nessuno proprio perché le nuove generazioni stanno dentro un processo eh legato ad una società estremamente individualista e ed estremamente appiattita dove queste forme d'appiattimento le possiamo trovare eh in tanti modi cioè io voglio dire tutte queste bandierine che sono state disegnate alle scuole elementari per la pace ma le maestre quando facevano queste bandierine cioè ma fatele fa tutte queste bandierine perché voi le avete fatte fa le bandierine negli otto anni prima? C'era una bandierina del Donbass c'era la bandierina no? No non c'era allora no eh cioè io mh quindi penso che anche gli adulti eh chi sta con le nuove generazioni abbia il dovere di non non imprimere il proprio credo ma mostrare giovani più più sfaccettature ripeto io quando andai in quel liceo accettai perché sapevo che venivano offerte più visioni anche visioni che per me erano abberranti però vabbè oh cioè eh ci sta eh poi lo contestate eh lì ovviamente lo contestate eh stando stando sul pezzo in maniera anche molto dura eh e cruda a loro non serve il mio punto di vista o l'altro punto di vista serve vedere che ci può essere confronto serve un confronto sì questa eh questa secondo me è mh eh la cosa la cosa più importante però cioè viviamo in situazioni in cui no ancora si fa vedere la vita è bella eh di Benigni eh che secondo me dovrebbe essere un film invietato ai minori di 18 anni eh perché il finale eh il finale insomma eh cioè mh altro che collaborazionista il finale è criminale perché ha veramente cambiato la storia poi dice ma non era non era proprio Auschwitz quella eh no ha messo tutti gli elementi che ce la ricordano e poi dice non era Auschwitz eh può rampicarsi no eh negli specchi quindi uno dei dei problemi è che ad esempio queste giovani generazioni non sanno quasi niente della resistenza non sanno niente della resistenza partigiana non sanno niente del eh di quello che hanno fatto i nostri nonni eh non sanno nulla eh di quella di quello che è stato fatto nell'Unione Sovietica per liberare eh liberarci dal nazifascismo quando tu parlavi di revisionismo beh ce lo ricordiamo no un po' di mesi fa che cos'è successo hanno iniziato a tirare fuori la storia che eh Auschwitz non era stata liberata eh da dai russi eh sì da dai sovietici dice perché ma quello che era entrato eh eh viveva in Ucraina ma allora cosa c'entra perché la bandiera nel Reistach l'ha messa a un giorgiano vuol dire che Berlino l'ha stata liberata da cioè che 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 c'entra era era Unione Sovietica no? Il mondo era così in quel momento c'era l'Unione Sovietica che era un paese e quindi tutte queste cose scusate non vengono eh non vengono eh non vengono riportate e che cosa vedono eh i giovani magari al telegiornale se l'ha detto al telegiornale non so perché io la tv non la guardo eh ma eh che appunto è stato premiato no? In Canada ci abbiamo avuto questa eh questa premiazione no? Però se i giovani studiassero la storia cioè se la facessero studiare eh saprebbero che non è un caso che questa cosa è successa proprio in Canada no? No non ci dovremmo stupire perché sappiamo che tutti i vari nazisti che c'erano eh in Ucraina eh durante la seconda guerra mondiale eh dove si sono rifugiati beh tantissimi di loro si sono rifugiati proprio in Canada la stessa famiglia di Bandera del nazista ucraino Stepan Bandera eh negli anni cinquanta eh dopo che lui è stato ucciso da 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 un agente del KGB eh Bandera stava a una cosa era rifugiato eh ma la sua famiglia dove è migrata in Canada. Il Canada è pieno di ex nazisti così come il Sud America. Qualcuno ha fatti passare e poi ci sono tanti. Così come gli Stati Uniti anche Sara dove fra l'altro hanno compartecipato questa storia quindi non è un'opinione hanno compartecipato alla creazione delle agenzie di sicurezza e e delle istituzioni americane. Ecco allora queste cose andrebbero studiate perché poi quando noi eh diamo la allarme diciamo in Ucraina ci sono dei nuclei eh nazisti importantissimi queste cose cioè le origini stanno lì eh nasce tutto da con eh l'OUN l'Unione dei nazionalisti ucraini eh di Stepan Bandera che era questo gruppo che era nato eh appunto negli anni venti e eh che poi eh durante la seconda guerra mondiale si trasforma eh nel cosiddetto UPA che era l'esercito insurrezionale eh ucraino che eh per l'indipendenza eh portare avanti la lotta di indipendenza dell'Ucraina in chiave antisovietica si era alleato con i nazisti tant'è che erano eh cioè a volte questi poi facevano pure come gli pare tant'è che pure Hitler diciamo questi del del lupa sono insubordinati vogliono fare come gli pare cioè starrabbiamo pure Hitler eh però cioè questa questa è storia eh e gli ebrei cioè comunque ehm gli ebrei se li ricordano queste cose che sono state fatte eh da lupa e se li ricordano anche i polacchi però questi poi sono andati in Canada negli Stati Uniti in Sud d'America sono stati messi in sicurezza con questi corridoi umanitari ma è gente che doveva finire in carcere per i crimini eh che aveva commesso invece sono stati tutti messi in salve adesso geriatrici ancora noi ce li ritroviamo con con cioè queste queste questi morti viventi questi zombie che 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 ritornano no che che dice ma basta ancora no i premi però cioè alcuni mesi fa mi pare fosse aprile non ricordo era stata eh premiata pure eh Giulia scusate non ricordo il cognome in questo momento che era eh una mh una del battaglione Asof e quella è stata ricevuta a Washington con tutti gli onori i premi i premietti per la resistenza ma no quella è una nazista eh sono stati ricevuti anche dal dal Vaticano se non erro allora quindi voglio dire dobbiamo eh dobbiamo fare attenzione io poi eh ci torno sempre a a ripetere questi sono nazisti quindi l'Occidente sta sostenendo eh dei nazisti cioè eh c'è poco da fare non sono uno sono tanti andatelo a chiedere le persone che sono rimaste a Mariupol e te dicono eh noi eravamo sotto assedio in tutti questi anni siamo stati sotto assedio dal battaglione Asof non era una persona eh che c'era nel battaglione Asof erano tanti erano nazisti e c'erano i simboli nazisti parlando di giovani io l'anno scorso ho intervistato una mamma che viveva a Mariupol eh questa intervista uscirà nella nel documentare il fronte degli invisibili no che 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 a breve insomma eh speriamo che venga la luce e questa madre ehm faceva l'infermiera e c'aveva un figlio adolescente mi raccontò la storia eh disse noi abbiamo provato ad uscire da Mariupol ma non c'erano non c'erano una sufficienza siamo rimasti qui però comunque aspettavamo l'arrivo dei russi no mi ha detto questa questa donna e lei mi ha raccontato ha detto io ho avuto un periodo terribile con mio figlio in questi anni Mariupol lo ricordo non c'era la guerra a Mariupol la guerra era eh nelle altre aree del Donbass perché Mariupol si era rivoltata nel 2014 perché voleva non voleva stare sotto i golpisti del regime di Kiev però la rivolta è stata repressa in maniera molto violenta in sangue quindi Mariupol stava sotto il governo ucraino e lei dice noi qui eravamo assediati sotto il controllo del battaglione Azov perché c'è stava il battaglione Azov a Mariupol perché a Mariupol c'erano i filorussi loro dicono filorussi russi russi ucraini perché poi loro no l'ho detto tante volte sono venuti lì in quelle terre nell'ottocento per lavorare nelle miniere erano russi loro si sentono russi tempo ti dicevano russi ucraini uguale uguale non c'era non c'era sta divisione no però questi qui che stavano a Mariupol come quelli che stavano in altre zone eh lì vicino si erano ribellati quindi avevano mandato il battaglione Azov a dire state buoni ehm e questa donna dice eh vabbè dice noi lo sapevamo che erano nazisti erano pieni di tatuaggi facevano i disegni e panchine ci rompevano le scatole con steppan bandera eh eccetera e dice che un sacco di giovani eh entravano nel battaglione Azov ma tanti ha detto tanti anche qui della città dice anche amici di mio figlio tant'è che un giorno mio figlio dice viene a casa e mi inizia questa storia del battaglione Azov io gli ho detto ma perché figlio mio ti vuoi eh ficcare dentro questa cosa immonda e sapete che gli ha risposto gli ha parlato dei dei simboli gli ha parlato del nazismo gli ha parlato dei disvalutati no gli ha detto perché pagano bene pagano molto bene poi cosa ho fatto sono andata a Danetsk qualche giorno dopo intervistato uno psichiatra Valentin Pichterev che conosco dal 2014 e quindi allo psichiatra io ho fatto una stessa domanda dico ma Valentin ma secondo lei eh perché tutti sti giovani entravano nel battaglione Azov e te da un psichiatra mi aspettavo tutta una grande risposta ma per soldi ma ho detto come per soldi eh la fama pagano benissimo la ma ho detto ma no dai cioè ci saranno ha detto no ha detto so so soldi non c'entrano niente simboli la forza il fascino i soldi ha detto so soldi ha detto questi entrano per soldi detto da da uno psichiatra cioè ha detto sì ci sarà pure il fascino dice ma magari tu puoi lavorare in fabbrica allo stesso tempo averci il fascino per l'estetica nazista perché poi spesso anche no eh la cosa ecco ha detto sì però ha detto quelli che proprio entrano nel battaglione non fanno per soldi perché pagano benissimo quindi un sacco di giovani sono entrati quindi sta madre terrorizzata dice adesso dice ma che sei matto il figlio ha detto dopo un po' gli è passata sta cosa e i suoi amici ancora so che stanno nel battaglione Azov però a lui per fortuna questa cosa gli è passata e lei mi ha detto ma vai a vedere su internet che ci sono tanti documentari sui campi di addestramento che hanno fatto in queste terre in questi anni e io le ho detto guarda io già ho visto questi documentari perché eh i campi di addestramento giovanili perché io ci ho girato il cortometraggio su questo tema eh radical camp che è un cortometraggio distopico eh ambientato nel futuro ma io in realtà per scrivere la sceneggiatura mi sono ispirata a questi eh campi di addestramento giovanili dove questi ragazzini praticamente vengono eh venivano eh formati a eh quella che è l'ideologia eh ne ne è un'azzista eh e ci sono documentari non fatti da quella che chiamano la propaganda russa ci sono documentari fatti da reti televisive statunitense anglosassoni ehm adesso non ricordo se era eh la 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 BBC o forse la BBC non ricordo però io ne avevo visti diversi e anzi ricordo che intervistavano eh questi occidentali intervistavano queste mamme che mandavano i propri figli nei campi di addestramento e queste dicevano vabbè ma in fondo è difficile dargli le regole eh almeno lì c'hanno una routine ma eh mandali a scout no cioè ma ma ne parlava come se l'avesse mandati a scout perché poi quando te li vedi lì così che fanno tutte ste cose eh ti sembrano un po' dei degli scout no? Solo che poi c'è l'addestramento ehm ideologico all'ideologia eh del delle dell'estrema destra quindi ecco chissà quanti ragazzini poi sono stati presi sono stati mandati al macello eh a morire perché poi alla fine questa guerra eh dovrebbe finire perché eh ci sono tante vittime tra i civili eh però non è che mi rassicura sapere che ci sono anche tante vittime eh tra gli eserciti poi sono persone giovani che 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 si ritrovano lì io dico sempre sia da una parte che dall'altra ehm entrambe le parti eh si dovrebbero fermare eh bene tutte queste cose che ho detto chi chi gliele dice ai giovani nessuno questo è quanto no infatti un tema molto importante Serenella magari una volta ne parliamo specificatamente è la scuola perché uno dei problemi è la scuola visto che è lì che i giovani poi un po' si formano e non hanno più un luogo di formazione nella scuola. Beh a me l'impressione è che questi programmi di storia si fanno sempre più fatica no ad arrivare eh ad arrivare fino alla fine eh io penso che nelle scuole ci siano degli ottimi insegnanti cioè complessivamente la mia eh opinione è buona del corpo docenti eh penso che però ehm non venga data loro ehm cioè sono molto sotto pressione la mia idea è questa cioè non sono le cinque ore che stanno scuola ma è tutto quello e tutta la burocrazia che c'è prima dopo durante intorno. Ma il problema infatti è sopra dal corpo insegnante che sicuramente in gran parte è ottimo e si impegna molto da sempre. Sì io credo. È stato privato degli strumenti per poter lavorare per poter trasmettere il sapere perché anche le materie vengano sempre più erose. Io credo che che ci sia un po' un po' un sovraccarico e eh un'altra cosa che eh di cui ho l'impressione è che eh nella scuola si punti sempre di più ehm alla performance al premiare la performance cognitiva no? Quindi ehm ragazzini, ragazzine, bambini, bambini che danno delle buone performance da un punto di vista logico, matematica o della produzione di testi vengono eh premiati. Eh credo che la scuola sia carente dal punto di vista ehm della di quelle che sono un po' eh lo sviluppo e il potenziamento delle abilità espressivo creative che sono molto importanti perché poi una persona creativa è una persona che no? C'ha più senso critico, contesta, no? Ecco eh credo che la scuola stia eh ma proprio perché non vengono date le ore a disposizione per fare queste attività sia molto carente ehm da 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 questo da questo punto di vista e a me è spesso capitato di avere a che fare con dei bambini o delle bambine che eh avevano una forte sensibilità eh da un punto di vista dell'estro creativo e dell'estro artistico e non avendo stimoli sufficienti e eh bacini d'espressione all'interno eh del del sistema scolastico per tirar fuori questa parte poi tendevano anche a deprimersi. Cioè io credo che tutte quelle attività come il canto ehm la danza eh il teatro il disegno eh tutto ciò che è creatività ehm la scrittura ma di tipo creativo eh andrebbero estremamente potenziate però è chiaro che se la scuola è messa su questo e cioè avere una popolazione di persone creative i creativi rompono lo so dei rompiscatole eh perché poi creano hanno l'idea di questo insomma se potrebbe fa così se potrebbe fatto da cioè i creativi non so dei ribelli di base no eh e quindi sono sono poco gestibili e non è un caso che la scuola non non investa eh molto da 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 questo punto di vista e in questo senso il rischio il rischio è che la scuola tenda a dirigimentare poi ci sono dei professori bravissimi delle maestri maestri bravissimi che riescono a trovare degli spazi e dei modi per garantire l'espressività ma che è fondamentale anche perché se no eh le emozioni sì ci sono tante emozioni belle da tirar fuori a quell'età però ci sono anche tante emozioni distruttive che fondamentalmente non vengono mai mai espresse mai tirate fuori mai trasformate il processo creativo ti aiuta a trasformare le emozioni negative in un qualcosa di positivo allora se non vengono ascoltati non ci sono più gruppi di pari si tende all'individualizzazione non c'è neanche uno sfogo per tirare fuori la creatività che facciamo creiamo una generazione di soldatini o di uccellini che cinguettano dentro una bolla pensando di essere liberi ma in realtà ehm in realtà non lo sono ecco quindi infatti infatti sono d'accordo bisognerebbe investire su questo e anche sulle stesse materie di studio perché poi bisogna studiare la storia ma anche tutte le altre materie perché aiutano e se invece si ridurcono le materie per attività invece che non sono né espressive né altro ma magari utili a far uso di di device elettronici eh ci hanno allora intanto mh stanno uscendo sempre più studi che che ci mostrano quanto siano pericolosi device elettronici eh in tenere età io su questo sono molto integralista dico proprio non glielidate quando sono piccoli non glielidate non glielidate perché eh comunque gli studi portano tutti ad una conclusione che questi device rincoglioniscono e e questo è un dato di fatto no quindi quando sono eh piccini non non li lasciamo però eh come dire eh va bene non dobbiamo essere nemici della tecnologia ma eh non serve per studiare il greco e il latino il il device può essere un supporto se se devo prendere appunti assolutamente però concentriamoci anche sull'uso di quelle materie sullo studio di quelle materie che apparentemente non servono a niente perché non è vero che non servono a niente quella è la cultura e quello va a formare la va a contribuire alla formazione della personalità del soggetto cioè meglio greco e latino che le ore di formazione dell'esercito italiano nelle scuole cioè anche no perché poi lì no abbiamo visto come si sia insediato l'esercito eh dentro gli istituti al punto che stanno hanno fatto pure una linea dei zainetti dell'esercito italiano ma dico c'è anche no però eh questo lo vediamo soprattutto poi no eh in terre dove ci sono più difficoltà ad esempio no eh nel nel trovare lavoro allora l'esercito viene visto come un sistema che ti dà il posto fisso solo che poi noi andiamo a fare sempre tutte le guerre sbagliate cioè noi quelle che stiamo stiamo andando armi in Ucraina per fare cosa per bombardare i territori di Danetsk e ammazzare la popolazione civile cioè questo è avviene e lo dico perché io giravo per Danetsk non sapevi dove mettere i piedi perché ci stavano i petali che erano le mine anti uomo che c'erano state recapitate eh via razzo da dal fronte che eh difendiamo noi c'era bisogno di buttare nel centro cittadino le mine anti uomo che era piena di gente e bambini mutilati perché saltava la gamba saltava di tutto no non sapevamo dove dovevamo camminare quel periodo le storie scorsa ehm a Danetsk eh però se andiamo in territorio ricordo l'ultima volta che sono state in Sardegna non in vacanza eh c'erano ovunque manifesti dell'esercito italiano che poi sappiamo che lì ci sono tutte le basi tutti i problemi che ci sono state eh in quelle terre e eh chi fa militanza in Sardegna lo lo dice bene cioè noi facciamo militanza però alla fine le madri disperate sono contente che i figli maschi entrano nell'esercito perché almeno ci hanno un posto cioè ci rendiamo conto in che 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 mondo viviamo cioè neanche i film del neuralismo raccontavano queste queste tragedie questo è quanto non dobbiamo deprimerci dobbiamo lottare per eh fornire ai giovani un eh modello diverso che è mh sempre più difficile fare questo perché per tornare alla seconda parte eh della tua domanda è il sistema di informazioni il sistema di informazioni come anticipavo all'inizio è eh sotto controllo e e quindi come che dobbiamo farci torneremo a fare volantinaggio io dico torneremo a a a a stampa a stampare le cose a fare volantinaggio non lo dico scherzando cioè io credo che noi noi che stiamo eh noi dissidenti tra virgolette noi che non siamo nella maggioranza dovremo trovare degli altri sistemi per far passare le informazioni ma infatti infatti Margherita Furlan il nostro direttore eh sta andando verso questa non verso questa direzione però sta pensando che dobbiamo muoverci anche verso la gente quindi incontrare le persone in cinema, teatri, sale dove possiamo e magari fare il telegiornale insieme a loro fare la diretta insieme a loro in mezzo alla gente con la gente. Ma eh sì sono assolutamente d'accordo stimo molto Margherita Furlan e credo che questa sia una una giusta eh intuizione e e mi viene in mente adesso eh mentre parlavo no ehm quella che si si chiama la giovane guardia ecco sì parlavamo dei giovani mi piace eh raccontare questa cosa della giovane guardia ehm come come facevano militanza quelli della giovane guardia allora intanto chi era la giovane guardia? Eh io quando sono stata eh a Lugansk e ehm anche in un'altra città ehm in un'altra città a Krasmudon in sempre nel nel Donbass a pochi chilometri da Lugansk ho visto due monumenti eh dove c'erano dei ragazzini ma giovani sembravano dei quattordicenni quindicenni e ho detto ma ehm cos'è questo monumento mi hanno detto mi hanno spiegato il monumento alla giovane guardia eh questi della giovane guardia erano dei ragazzini che eh e delle ragazzine c'erano anche molte ragazze eh piccoli quindici sedici anni eh che durante la eh seconda guerra mondiale eh fecero la resistenza ai nazifascisti nel periodo in cui nelle loro terre c'era proprio l'occupazione nazisca ehm fecero delle cose incredibili eh tipo eh rubarono ehm dagli archivi dei nazisti degli elenchi dove c'erano tutti i nomi delle persone che dovevano dei territori essere deportate nei campi gliel'hanno fregate gliel'hanno bruciate così non c'è stata più eh quella deportazione eh facevano delle azioni di sabotaggio per difendere eh la loro terra e una cosa che a me aveva molto colpito era questa perché diceva ma questi com'è che erano così informati no? Questi della giovane guardia quindi quando sono tornata ho fatto tante ricerche ehm nei nei siti russi su su questo eh gruppo di giovani militanti e praticamente c'era uno di questi ragazzini che aveva costruito una radio con questa radio lui prendeva le frequenze eh di di radio Mosca quindi era informato su quello che dicevano da Mosca al di fuori della propaganda neonazista perché quelle radio erano chiuse come era erano chiuse come vengono chiusi qui i canali internet quindi loro eh prendevano sentivano le informazioni delle radio e stampavano dei facevano i volantini stampavano i volantini li davano nascosta alla popolazione per dare informazione e stimolare la popolazione a fare opposizione ehm e resistenza ai nazifascisti quindi ho detto ma porca miseria cioè questi della giovane guardia erano dei ragazzini che c'avevano una radio quindi probabilmente ritorneremo a questi sistemi perché la radio è più difficile da io non me ne intendo però credo che a livello di frequenze non è che puoi proprio ehm chiudere tutto insomma loro c'erano questa radia e facevano ehm volantinaggio di nascosto perché eh adesso svegli i trucchetti che useremo nel futuro no scherzo no eh però mi aveva colpito no anche la il caso di Elon Musk eh che nella sua autobiografia ha eh raccontato come eh con l'inizio dell'operazione speciale lui avesse a un certo punto blindato eh i sistemi satellitari eh sopra la Crimea eh per per evitare eh che ci fossero di disastri in quella zona che era sotto il suo sistema satellitare che per carità doveva servire per Netflix però lui ha detto no no cioè sta cosa è pericolosissima infatti adesso gli è stato cooptato no leggevo leggevo di di recente cioè tutto quello che c'è alla luce del sole verrà cooptato tutto 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 servono altri serviranno altri sistemi di questo io sono certa sicuramente la carta sarà un sistema eh che dovrà essere riutilizzato perché poi quando c'era la carta mh eravamo più forti allora l'altro giorno ho visto un un documentario eh molto interessante eh sul fumetto queer no e e praticamente parlava di quest'onda di fumettisti che sensibilizzavano su eh le tematiche eh omotransfobiche adesso spero che una parte del pubblico non va abbandoni perché ho detto omotransfobiche scusate no vabbè però era un documentario sui fumetti eh lo posso dire e questi dicevano che negli anni 80 90 eh avevano un casino di lettori editori che pubblicavano eccetera poi è arrivato internet e loro hanno detto dai adesso con internet non hanno avuto più la stesso mordente che avevano prima e qui parliamo del fumetto il fumetto è un sistema eh per fare rivoluzione è un linguaggio giovanile importante è un linguaggio molto 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 importante e e questa cosa a me ha colpito molto effettivamente è vero noi una volta giravamo anche in certe librerie andavi da Feltrinelli trovavi anche certe cose no molto interessanti ma adesso trovi tutto omologato il libro del Saviano il libro della Murgia il libro del Saviano il libro della Murgia poi c'è la gamba reale poi no ragazzi cioè non è che possiamo fare la rivoluzione con con questo cioè dubito ecco eh quindi eh che dire dovremo utilizzare dei nuovi sistemi eh purtroppo eh i ragazzi della giova le ragazze della giovane guardia sono stati tutti ammazzati eh perché eh poi i nazisti li hanno li hanno presi eh li hanno portati voi sapete che in Donbass ci sono eh miniere quindi li hanno presi in gruppo li hanno messi eh sul bordo eh di 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 una miniera hanno sparato e e questi sono caduti e sono morti eh appena due mesi dopo è arrivata l'armata rossa eh li hanno quindi hanno liberato la città eh era marzo quindi hanno ripreso i corpi di questi ragazzini e ragazzine dalla neve congelati e ai genitori è toccato il riconoscimento. Questo non perché i giovani devono essere ammazzati però io dico noi ritroviamo dentro di noi la nostra parte giovane quella che ha sempre voluto lottare quella che si ribellava quella che credeva in un mondo migliore cioè siamo noi giovani e poi dopo le cose si sistemano. E restiamo attaccati alla verità che è l'unico delle poche cose a cui possiamo ancora aggrapparti. Grazie Sara. Cerchiamo i dati reali che è difficilissimo trovarli. Grazie a voi. Grazie tantissime e grazie a tutti voi per aver seguito e sostenete il lavoro del nostro canale. Lo potete fare facilmente dalla pagina web del nostro sito www.casadelsole.tv barra sostienici con un abbonamento o con un contributo volontario e anche continuando a partecipare come state facendo insieme a noi alle nostre attività. Grazie e arrivederci alla prossima volta.